Le rastrelliere installate per il servizio bike sharing saranno finalmente rimosse. Lo ha disposto con un'ordinanza il Comune di Brindisi. Al loro posto saranno creati parcheggi riservati a biciclette e motocicli mediante l'installazione di nuove apposite rastrelliere sul margine della carreggiata. Le strutture di parcheggio bike sharing ormai abbandonate da anni per un progetto fallito rapidamente si trovano presso i giardinetti di Piazza Vittorio Emanuele, Via Filomeno Consiglio, Piazza Crispi e Via Spalato. La rimozione delle rastrelliere dovrà essere effettuata da personale della Brindisi Multiservizi che si occuperà anche di realizzare la segnaletica relativa ai nuovi parcheggi riservati a moto e biciclette. Il servizio bike sharing per un totale di 50 biciclette da noleggiare ha avuto scarso successo nel Comune di Brindisi. Avviato nel 2015, dopo i mesi iniziali, non ha mai ottenuto i risultati sperati dalla Global Trade, la società che aveva avuto in appalto il tesseramento dei fruitori, oltre che la manutenzione delle biciclette e delle stazioni. Il costo delle tessere era di 20 euro e consentiva l'utilizzo delle biciclette per un massimo di 4 ore al giorno per un anno. In breve tempo le biciclette furono abbandonate da cittadini e turisti. Non solo, divennero sempre più frequenti. I danneggiamenti, tanto che furono rimosse dalle rastrelliere, rimaste per oltre 5 anni abbandonate al loro destino.